24 apparecchi da gioca e intrattenimento sono stati sequestrati in due esercizi commerciali dalla Guardia di Finanza di Cosenza che ha segnalato tre persone che rischiano sanzioni per 500 mila euro all'agenzia delle dogane e all'azienda Monopoli di Stato. Gli apparecchi sequestrati dai finanzieri che sono risultati totalmente illegali perché privi delle licenze previste apparivano destinate all'acquisto di ricariche telefoniche e di beni online e solo attraverso una combinazione di tasti consentivano l'attivazione dei giochi illegali. In modalità stand-by gli apparecchi mostravano i loghi dei gestori telefonici o di siti di shopping online. La totale illegalità degli apparecchi da gioco, secondo quanto appurato dai finanzieri, ha consentito al titolare dell'attività di impostare le percentuali di ritorno delle giocate in invincite a proprio favore, disattendendo la normativa di riferimento e assicurando così elevati introiti e bassissime erogazioni di vincite.